Abbiamo indetto questa manifestazione a Segesta intorno al Tempio, vorremmo formare una catena umana proprio per dare questo effetto simbolico che tutta la popolazione della provincia di Trapani è contraria a questa ipotesi scellerata di piazzare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi, quindi le scorie radioattive di tutta Italia, quelle delle vecchie centrale nucleari, nei due siti che sono stati scelti, che sono quelli di Fulgatore Trapani e di Catafemi Segesta. E quindi facciamo appello a tutti i cittadini, alle famiglie, perché è veramente una battaglia per il futuro delle nostre generazioni, perché potete pensare che una provincia a vocazione naturalista, a vocazione turistica che è investita tantissimo in questo settore, quale effetto negativo boomerang provocherebbe la notizia che si costruirebbe il deposito nazionale di rifiuti radioattivi di tutte le scorie nucleari d'Italia proprio nella nostra zona. È un'ipotesi che noi vogliamo assolutamente scongiurare e quindi facciamo appello a tutti e alla partecipazione per dare questo segnale di contrarietà a queste ipotesi. Chi parteciperà a questo evento? Chiaramente è un appello trasversale, abbiamo invitato tutti, abbiamo pure inviato una letta al Presidente della Regione Schifani, al Presidente dell'Ars Galvagno, a tutti i sindaci della provincia di Trapani perché non c'è colore politico che tenga. È una battaglia per il futuro della nostra popolazione. Noi riteniamo che ci sono delle motivazioni tecnico-scientifiche, abbiamo presentato relazioni geologiche, tecniche, abbiamo detto appunto che è pericolosissimo trasportare i rifiuti delle centrali nucleari che per lo più sono al nord per trasbordo via Namio, anche via Treno, fine in Sicilia sarebbe assurdo. C'è pure l'aeroporto Birgi militare con interferenze e quindi con una certa pericolosità. Ci sono tutta una serie motivazioni tecnico-scientifiche però non sono state valutate dalla SOGIN che è la società incaricata di individuare il sito e siamo preoccupati che alla fine sia una scelta esclusivamente di carattere politico e quindi a questo punto l'unica arma che abbiamo è far capire che la gente di Trapani, tutti i cittadini senza appunto colore politico ma perché ritengono che sia una scelta sbagliata si oppongono a queste ipotesi.